I continui casi di violenza contro le donne e il numero crescente di maltrattamenti in famiglia impensieriscono le istituzioni di Teramo. E così il prefetto, Graziella Patrizzi, chiama a raccolta le forze dell'ordine, la procura, il tribunale dei minori, la provincia con le sue strutture antiviolenza, la commissione pari opportunità, i comuni, l'ASL, l'ufficio scolastico e l'università per redigere tutti insieme un protocollo di prevenzione. Una rete sinergica tra soggetti istituzionali del territorio che devono dialogare tra di loro e scambiarsi dati e informazioni per migliorare il sostegno alle donne in difficoltà. Oggi inizia un progetto importante. Oggi inizia il cammino per la realizzazione di un progetto importante. Io conto che la sottoscrizione di questo protocollo avvenga entro giugno. Adesso, questa mattina, c'è la presentazione del protocollo in sede di conferenza provinciale permanente dove il protocollo prevede che venga istituita una cabina di regia per il monitoraggio della situazione, l'analisi dei dati e poi anche per adottare le iniziative conseguenziali interistituzionali. Cercare di governare, limitare, prevenire le forme di violenza, favorire l'integrazione, anche per esempio con le famiglie degli immigrati nelle quali molto spesso avviene proprio a seguito del loro arrivo qua un'alterazione un po' dei ruoli all'interno della famiglia e quindi momenti di smarrimento. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dei servizi sociali dei comuni terramani che a detta di tutti devono essere rafforzati perché sentinelle preziose sul territorio oltre al centro antiviolenza La Fenice gestito dalla provincia di Teramo. Che dati avete come centro antiviolenza La Fenice? Allora, purtroppo i dati sono in aumento e questo vuol dire sostanzialmente due cose una che il fenomeno della violenza sulle donne purtroppo non accenna a diminuire ma io lo leggo anche con un risvolto positivo nel senso che le donne finalmente cominciano ad intuire che esiste appunto questa rete antiviolenza che esiste il centro antiviolenza e che c'è chi in provincia di Teramo le aiuta in maniera gratuita con persone competenti e colgo qui l'occasione per dire che non è assolutamente necessario denunciare perché spesso quando si sente parlare di denuncia questo può essere un deterrente quindi io voglio sottolineare che la denuncia è soltanto un atto di liberalità della donna